Buongiorno a tutti e bentornati sul canale, io sono Luca Leoni della testata giornalistica interdipendenza. Oggi con voi vorrei parlare un po' del mercato del Barcellona e del perché si insiste costantemente sull'autoro Martínez quando l'ex presidente del Barcellona, Rossell, ha confermato una cosa. Messi vuole Neymar. E perché proprio Neymar? Neymar in questo momento potrebbe essere la soluzione ai problemi del Barcellona? Perché in Spagna ogni giorno, costantemente, su tutte le prime pagine di tutte le maggiori testate giornalistiche si parla solamente di Lautaro Martínez al Barcellona? E perché l'Inter non lo vorrebbe vendere? Questi sono degli interrogativi importanti. Andiamo prima ad analizzare la situazione legata al possibile trasferimento Neymar. E perché Messi vuole proprio Neymar? Ma andiamo a ritroso. Da quando il Barcellona ha ceduto Neymar al Paris Saint-Germain, sulla corsia di sinistra non c'è stato nessun calciatore in grado di poter ricoprire quel ruolo. Sono arrivati i vari Coutinho, Dembélé, svariati giocatori che non sono riusciti a sostenere la pesantissima eredità di Neymar. E quindi Messi è ancora legato all'ex compagno, perché hanno ancora una chat in comune su Whatsapp, insieme a Suarez, la MSN, come si chiamavano loro. Quindi Messi vorrebbe completare l'attacco del Barcellona. In questo momento non è completo l'attacco del Barcellona. E dunque arriva al secondo punto. Il secondo punto è quello legato all'Autaro Martínez. Se dovesse arrivare l'Autaro Martínez ora, al posto di chi giocherebbe? Ovviamente se la giocherebbe con Suarez, ma Messi, Suarez e Neymar, nella testa di Messi sono ancora i suoi compagni preferiti al momento, perché Suarez in questo momento è il titolare indiscusso. È ancora, forse probabilmente, uno degli attaccanti più forti al mondo. L'Autaro Martínez potrà arrivare al livello di Suarez, ma al momento non è ancora arrivato. Quindi, in questo momento Messi pensa al presente. Tecnicamente e tatticamente al Barcellona serve più Neymar di Lautaro Martínez. Questo è un dato di fatto. E qualora dovesse scegliere di comprare Lautaro Martínez, avrebbe comunque un problema sulla corsia di sinistra, visto che è considerato che manca un giocatore da quella parte. Quindi, logicamente, l'acquisto più sensato per il Barcellona è Neymar. E Messi lo sa, Messi lo sa e lo ha dichiarato, lo ha fatto capire. Quindi, prepariamoci perché Lautaro Martínez potrebbe almeno rimanere un altro anno all'Inter. Non è detto, non è certo, ma il Barcellona in questo momento ha una situazione economica un po' precaria. La situazione economica del calcio mondiale è precaria. Lautaro Martínez all'Inter sta bene. Se il Barcellona dovesse arrivare con un'offerta, ben venga per il Barcellona, ma in questo momento Lautaro Martínez è un giocatore dell'Inter, pensa a giocare nell'Inter, probabilmente penserà anche al rinnovo con l'Inter, ma in questo momento Lautaro Martínez è un giocatore dell'Inter e l'Inter non vuole privarsene. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a mettere like, a commentare il video con la vostra opinione e a seguire il nostro canale. Vi auguro una buona giornata ancora una volta da Luca Leoni e da tutta la redazione della testata giornalistica Interdipendenza. Grazie ancora per averci seguito. Voce Neroazzurra, il podcast di Interdipendenza.